Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione dal territorio. Resta ancora un mistero, la morte della giovane donna di Adria, Carlotta Portieri, morta dopo essere precipitata dal diciannovesimo piano di un grattacielo in Cina. La notizia della tragedia è arrivata in provincia di Rovigo come un macigno. Carlotta, 28 anni, lavorava in Cina da un anno e mezzo, si era trasferita dopo aver conseguito la laurea in lingue. Nel paese asiatico insegnava italiano, si era trasferita da poco, viveva con un compagno. Le circostanze della tragedia al momento non sono conosciute. Falso allarme bomba questa mattina in tribunale a Verona. Tre telefonate avrebbero segnalato la presenza dell'ordigno. Immediata l'attivazione del sistema di sicurezza che ha richiesto lo sgombero del Palazzo di Giustizia e l'intervento delle forze dell'ordine con gli artificieri. Le verifiche eseguite hanno dato esito negativo. La situazione è tornata alla normalità dopo un paio di ore. Luca Claudio è nuovamente uscito dal due palazzi. È ai domiciliari ma in località segreta. Luca Claudio è uscito dal carcere ed è stato sottoposto alla detenzione domiciliare. Un caso insolito, forse l'unico in Italia, quello che riguarda l'ex sindaco di Abano Terme. Arrestato il giorno dopo la sua rielezione a primo cittadino con l'accusa di tangenti, dopo quasi dieci mesi di carcere era stato posto ai domiciliari, che però erano stati revocati. Luca Claudio aveva rilasciato un'intervista al quotidiano il mattino di Padova, parole che hanno funzionato come pass per la riapertura della cella. Aveva detto cose sconvenienti, non era piaciuto il suo tono, non poteva parlare con i giornalisti oppure qualcuno si è accanito contro di lui? Sono queste le domande che circolano tra i cittadini, ma la risposta è una. Non poteva avere contatti esterni se non con la sua cerchia familiare e quindi non poteva rilasciare l'intervista. Sentito dalla procura, Luca Claudio si era scusato. Questa volta la notizia dei domiciliari non è trappelata e la località di detenzione viene tenuta nascosta. Allarme al centro di smistamento postale di Camin a Padova per la presenza di polvere bianca che usciva da una busta. L'allarme è scattato poco prima delle 13, quando alcuni lavoratori hanno notato della polvere bianca fuoriuscire da una busta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, dopo che era scattato il protocollo di sicurezza che si attiva automaticamente durante queste situazioni di emergenza. La busta è stata sigillata ed è stata trasportata al centro di analisi di mestre. Solo al termine delle specifiche attività sarà possibile stabilire la natura della polvere. E adesso parliamo delle banche venete in difficoltà. Rispetto agli esuberi possibili in Popolare di Vicenza e Veneto Banca l'obiettivo è non fare macelleria sociale. Queste le parole dell'amministratore delegato Fabrizio Viola. L'intenzione, ha spiegato, è usare tutti gli strumenti messi a disposizione anche dal governo per raggiungere l'obiettivo di riduzione dei costi avendo i minori effetti possibili sulla società. Nessuno gode a mandare sulla strada la gente ma dobbiamo essere consapevoli, ha sottolineato, che la situazione è molto molto grave. Tre cittadini marocchini sono stati arrestati dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Verona con l'accusa di aggressione e con accoltellamento di un loro connazionale. I quattro erano nel piazzale della stazione ferroviaria di Verona quando uno di loro, per motivi che ancora devono essere ricostruiti, è stato aggredito, è stato colpito con due coltellate al torace. I poliziotti sono intervenuti in suo soccorso e hanno bloccato i tre aggressori. Uno si era appena liberato dal coltello usato e si era cambiato il giubbotto, probabilmente credeva di farla franca. I tre, due di 27 e l'altro di 20 anni, nell'immediatezza del fatto, sono stati arrestati. Il giudice dell'undienza di convalida ha poi disposto la custodia cautelare in carcere per uno dei due maggiori, che ha materialmente sferrato le coltellate. Gli altri due sono stati invece rimessi in libertà. Il ferito, 22 anni, è ricoverato in ospedale con una prognosi di 30 giorni. E adesso invece parliamo di un'operazione antidroga, un'operazione eseguita in varie città del nord Italia dalla Polizia di Stato. Imponente operazione della Polizia di Stato contro un gruppo di trafficanti di droga italiani e albanesi. 33 arresti sono stati eseguiti tra Milano, Trieste, Treviso e Varese. In carcere sono finiti 27 italiani e 6 albanesi con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti importate e commercializzate nel capoluogo Lombardo. L'indagine è iniziata dopo aver monitorato un gruppo criminale che ha tentato di investire i proventi di alcune rapine nel mercato della droga. Durante l'attività investigativa sono stati sequestrati circa 22 chili di cocaina, 30 di marijuana, un chilo e mezzo di hashish, alcune armi e circa mezzo milione di euro in contanti, oltre a 11 autoveicoli, 10 immobili e 32 conti correnti. Il Veneto è la terza regione italiana per casi di infortuni mortali sul lavoro. Qui si rischia di più che nel resto d'Italia. A lanciare il monito seguito da un appello è Piero Ruzzante, presidente del gruppo consigliare Misto in regione, che chiede al presidente Zaia se la regione intende intervenire. Depositata anche una mozione nella sede del Consiglio regionale del Veneto. La regione, dice Ruzzante, intervenga subito per tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, coinvolgendo Veneto Lavoro e potenziando i servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro. La Commissione europea ha nominato l'unità clinicizzata di anatomia patologica di Treviso, diretta dal professor Angelo Paolo De Tos, centro di riferimento dell'Unione Europea per i tumori rari. Unica struttura diagnostica in Italia, è ora partner della Rete Europea per i tumori rari solidi dell'adulto. Il centro è presso l'Istituto Tumori di Lyon, dove il 20 e 21 aprile si darà il via alle attività della Rete. La nomina è arrivata dopo una selezione, prima eseguita a livello nazionale dal Ministero della Salute su proposta delle regioni, poi vagliato dalla Commissione europea. Complessivamente si tratta di 24 network dedicati alle malattie rare e ai tumori rari, che vedranno la partecipazione di 900 unità di assistenza sanitaria specializzate provenienti da 300 ospedali di 26 stati membri. L'obiettivo ambizioso è che entro 5 anni almeno due terzi dei pazienti con tumori rari siano trattati in un centro della Rete, mettendo quindi in sinergia le strutture di eccellenza per garantire diagnosi certe e cure adeguate. E adesso l'appuntamento è con l'approfondimento, come tutte le sere parliamo di fisco, lo facciamo dando la parola all'esperto, il ragioniero Alberto De Franceschi. Buonasera Patrizia Vassallo, al Tg di questa sera entriamo nel pieno delle detrazioni del modello 730, ovvero le detrazioni spettanti per i figli a carico. Le regole introdotte in merito alle modalità di attribuzione della detrazione fiscale sul reddito per i figli a carico non incidono sulla possibilità di avere la detrazione del 19% per le spese effettuate nel loro interesse. È quindi sempre valido il principio di attribuzione della detrazione fiscale solo a chi ha effettivamente sostenuto la spesa. Poiché la detrazione è riconosciuta a fronte della detrazione della spesa stessa, la sua attribuzione fa per riferimento per prima cosa ai dati fiscali riportati sul documento di spesa. Se questo è intestato al genitore, la detrazione spetta per intera all'intestatario della ricevuta, a prescindere dal fatto che abbia oppure non abbia la detrazione in busta paga. Quando la ricevuta è intestata al figlio, invece, le spese in linea di principio devono essere suddivise tra i due genitori, a prescindere da chi ha il figlio a carico ai fini fiscali. Se però uno dei due ha pagato l'intero importo, ha diritto alla detrazione sull'intera spesa sostenuta. Per questo occorre annotare sulla ricevuta il suo nome, perché ai fini delle detrazioni e degli oneri è necessario che essi siano rimasti effettivamente a carico del contribuente. Quindi, se la spesa è stata sostenuta da uno solo dei genitori e questi è in grado di provarlo, potrà tenere conto dell'intero importo per calcolare la detrazione spettante. Infine, quando uno dei due conigi è a carico dell'altro, quest'ultimo può considerare l'intera spesa sostenuta ai fini del calcolo della detrazione per tutti i documenti di spesa. Questo principio si applica sia quando le fatture e le ricevute sono intestate ai figli, sia quando portano il nome del coniuge a carico. Esiste inoltre un'agevolazione fiscale ad hoc per chi avvia una pratica di adozione di minori stranieri. La lettera 1 bis dell'articolo 10,1 del testo unico imposte sui redditi prevede la deducibilità dal reddito complessivo del 50% delle spese sostenute per l'espletamento della procedura di adozione internazionale tramite le agenzie autorizzate. Elenchiamo ora le spese deducibili effettuate per l'assistenza ai bambini, la legalizzazione e traduzione dei documenti, i visti, le spese di trasferimento e soggiorno, la quota associativa richiesta dall'ente stesso e le altre spese rimborsate all'ente e debitamente certificate. L'agevolazione non è riconosciuta quindi in riferimento ai soli oneri burocratici ma spetta per tutte le spese direttamente connesse con la procedura purché certificate o documentate. Non c'è invece nessun beneficio fiscale per tutte le spese sostenute una volta conclusa l'adozione come ad esempio quelle degli incontri post-adottivi previsti per gli anni successivi alla conclusione dell'adozione stessa. Agli effetti fiscali della procedura di adozione inizia con il conferimento del mandato all'ente autorizzato e di conseguenza per usufruire della deduzione non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo. L'agevolazione spetta quindi a prescindere dalla conclusione della pratica e anche nel caso in cui la procedura si interrompe perché gli aspiranti all'adozione sono comunque tenuti a rimborsare all'ente tutte le spese sostenute fino a quel momento e questo è per l'incarico ricevuto e quindi se lo possono dedurre anche se non hanno concluso la pratica. Per l'attribuzione e l'agevolazione fiscale va seguito il criterio ordinario che riconosce il diritto alla deduzione della spesa al soggetto che l'ha sostenuta. Quindi in caso di documentazione intestata ad uno solo dei genitori l'onere verrà dedotto solo da quest'ultimo. Se invece la documentazione risulta intestata al minore la deduzione va divisa tra i conigi fatta salva la possibilità di annotare in calce una diversa percentuale della ripartizione delle spese tra i due conigi o tutto in parte in capo ad uno solo di loro. La stessa annotazione potrà essere effettuata sulla certificazione rilasciata dall'ente. Per oggi è tutto, ricordatevi che in caso di dubbi o interpretazioni di quanto esposto non dovete esitare a contattare un professionista esperto di vostra fiducia. Ci vediamo domani, buona serata. Un'altra notizia di cronaca per continuare il nostro telegiornale. Parliamo di due arresti per droga. Un artigiano 33enne incensurato e un disoccupato di 56 anni arrestati dai carabinieri di Montebelluna. Questo al termine di un'inchiesta sullo spaccio di marijuana. I militari, dopo aver eseguito vari accertamenti e pedinato i due italiani per parecchi giorni e verificato che incontravano ripetutamente in vari luoghi della zona giovani noti come consumatori di droga leggera hanno perquisito le loro case. In un'abitazione, in quella dell'artigiano, è stata trovata una serra con numerose piante di marijuana e tutto il materiale per la coltivazione. Stessa scena, forse un po' più piccola, nel garage del 56enne. In questo caso, otto piante di marijuana sono state trovate e 50 grammi già essicata. E adesso parliamo di clima. Lo abbiamo fatto anche nei giorni scorsi. Si sta un po' delineando la situazione per i prossimi giorni per capire come sarà il tempo a Pasqua. Sembra tra sole e pioggia. Sentiamo l'aggiornamento degli esperti. Le festività pasquali sono a rischio maltempo. In questi giorni ha regnato l'incertezza sulle prossime condizioni meteo, ma il quadro che si sta delineando sembra non promettere nulla di buono. Nelle prossime ore è prevista una perturbazione seguita da due giorni di sole, quindi tempo buono giovedì e venerdì. Ma dal weekend, secondo il direttore e fondatore del sito ilmeteo.it Antonio Sanò, i modelli si sono orientati verso l'incursione di aria più fresca nord-orientale, che porterebbe fasi di maltempo su mezza Italia nella giornata di Pasqua e sull'arco alpino e triveneto in quella di Pasquetta. Potrebbe essere questa la chiave di lettura dei due giorni di festa. A seguire, l'alta pressione si ritirerebbe verso Occidente, favorendo la discesa di aria artica sull'Italia, con il conseguente ritorno del freddo su quasi tutto il paese. Abbiamo sentito dunque anche un aggiornamento sulle condizioni climatiche dei prossimi giorni. Siamo arrivati al termine di questa edizione del telegiornale. Ringrazio tutti voi per l'attenzione, vi aspetto domani e vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie a tutti.